Buonasera a tutti da Di Loco i Fiori. Se venite con me vi porto a fare vedere l'estimento della sala che abbiamo appena finito di fare. Venite. Questa è la scalinata per arrivare alla location. Questo è il tableau de mariage fatto da noi e ora entriamo nella sala. Questo è il tavolo sposi, molto romantico e questi sono i tavoli degli ospiti. Centrotavola con un vetro a sfilare, arbanella e un vetrino con un tealight. Questa è tutta la sala. A dopo. Buonasera.